Carnevale a Torre del Greco tra maschere e lasagne. Una giornata di festa e di allegria per i più piccoli che si sono ritrovati come di consueto a Piazza Santa Croce per giocare e divertirsi tra coriandoli e risate. Un momento di divertimento per i bambini mascherati in compagnia dei loro genitori che si aspettavano più iniziative in città per il martedì grasso. Pensavo ci fosse qualcosa in più di intrattenimento soprattutto per i bambini invece ci stiamo divertendo da soli con i coriandoli. Pensava magari un po' di musica, qualche gioco? C'è qualcosa di intrattenimento, di animazione per i bambini invece è un po' morto. E per il Carnevale preparerà qualcosa di particolare per lei, per i suoi figli? Ho già preparato la lasagna e basta. Io sono un'insegnante quindi già ci siamo organizzate a scuola con i bambini perché questa è la loro festa quindi potremmo organizzare qualcosa di più per questa città che merita veramente. E per il Carnevale cosa ha preparato di buono? Abbiamo preparato con mia figlia le lasagne, abbiamo comprato le chiacchie, la tradizione è nostra. In piazza organizzata, fatta dai genitori va bene, però se l'amministrazione comunale avrebbe fatto un po' di animazione per le vie del centro sarebbe stato meglio, almeno per loro. A me piace questa amministrazione ma in questo caso è mancata. Secondo me si poteva organizzare qualcosa in maniera per i nostri bambini perché è bello ritrovarsi in questa piazza, meno male che c'è questa piazza insomma, però ci avrebbe fatto piacere anche l'apertura della villa comunale sinceramente. Il Natale è stato bellissimo, ci ha fatto piacere tanto, però a Carnevale si poteva fare qualcosa insomma. Preparare qualcosa di buono per lei, per i suoi bambini? Sicuramente per i bambini, non so, torte con la panna, chiacchiere, insomma tutti quei cibi tradizionali, per i più piccoli ovviamente, riadattati per loro. La giornata dei bambini, bisogna farli divertire, no? Gennaro, da cosa sei mascherato? Sono mascherato al principe azzurro. Quindi cerchi anche la tua principessina? Sì. Ti stai divertendo oggi? Sì, davvero una bella giornata. Cosa ti piace fare a Carnevale? A Carnevale mi piace mangiare la lasagna e giocare con mio cucino. Ti piace la lasagna allora che prepara mamma? Eh sì, no, mia nonna. Potevano fare un poco di più? In che senso? Nel senso che la strada è aperta, in piazza non c'è nulla di che, a parte i bambini, la villa è chiusa. Forse ci voleva qualche festa per i più piccoli di musica, di animazione. Ecco, anche preparato magari qualcosa di buono da mangiare per lei, per i suoi figli? Beh, i soliti dolci tradizionali, le chiacchiere, le castagnole, questo c'è per il Carnevale, ecco, le solite cose di festa del Carnevale. Oggi è comunque un giorno lavorativo, poi c'è chi ha la possibilità di portarli, ma ci sono anche delle persone che, famiglie, purtroppo dobbiamo guardare la realtà, che non hanno la possibilità. Con questa guerra che sta facendo è un casino, un po' di allegria ci vuole. Per loro e bambini, non per noi, che è una festa più per i bambini che per noi. Per loro e bambini, non per noi, non per noi, non per noi.